La curva è nuovamente in salita. La certificazione che la pandemia da Covid-19 non è ancora arretrata abbastanza arriva dal bollettino epidemiologico quotidiano della regione Puglia. La tendenza al rialzo si era già notata nei giorni scorsi, ma oggi si superano nuovamente i 5.000 casi di positività, con un balzo in avanti dei decessi e un ritorno delle attualmente positive e dei ricoveri ordinari. Sono infatti 5.348 i nuovi casi su oltre 30.000 test effettuati, mentre i decessi registrati sono 20. In lieve flessione i ricoveri in terapia intensiva che passano da 30 a 28, mentre sono in risalita quelli in area non critica che toccano 542 pazienti nelle strutture dedicate al Covid in Puglia. Sono 78.755 gli attualmente positivi al virus, poco più di 1.000 in più di ieri, anche perché i negativizzati sono solo 4.160. Lecce si conferma, la provincia che in questo momento ha l'incidenza più alta d'Italia ed aggiunge altri 1.697 casi di contagio, a seguire il Barese con 1.483 e Foggia con 725. La provincia di Taranto conta 628 nuovi casi, mentre Brindisi 392 e Labatt con 386. Si contano ancora 21 residenti fuori regione. La Puglia tuttavia da lunedì passerà in zona bianca assieme ad altre sette regioni, come deciso dalla cabina di regia del Ministero della Salute nel consueto monitoraggio del venerdì. La bassa percentuale di posti letto occupati in terapia intensiva alla base della decisione, anche se bisognerà capire cosa accadrà dal 1 aprile, data in cui terminerà allo stato attuale lo stato di emergenza per la pandemia.